E' stato molto facile per me cancellare i miei ricordi. Come hai fatto? Mi hanno sparato. Colpa in testa è mia. Ma adesso li devo agli tutti indietro. Sta arrivando la nuova direttrice. Dov'è finito? La sua gestione del reparto non è sostenibile. Vuole provare? Sono tornato solo perché mi hanno implorato. Come sono i nuovi? Buongiorno. Buongiorno. Che figata. Posso gustarle? Cuccioli molto preparati, molto incapaci. E sarai tu ad occupartene. Io? Che cosa succede se Andrea recupera l'amore e si ricorda di voi? Non è che ricordarselo ora può cambiare i suoi sentimenti. Se tutto va bene, vi avrai indietro la tua vita. Non pensarci. Sono solo brutti ricordi. Non importa quanto faccia male. Ogni ricordo è prezioso. Per me è vitale poter contare su di te. Qui non ci serve un primario come gli altri, Andrea. Serve uno che si appassiona, uno che quando sbaglia soffre. Qui ci servi tu, Andrea. Grazie, prof. Niente prof. Sono Doc. Ciao. 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 Grazie.